Il progetto Code and Seedil è un progetto di multicanalità che è stato concepito per informare ed educare in maniera adeguata sia i pazienti che i partner che la classe medica su tutte le tematiche inerenti, la disfunzione erettile e la sintomatologia urinaria associata a problematiche prostatiche. L'obiettivo del progetto era quello di inserire all'interno dei canali che abbiamo utilizzato informazioni accurate e attendibili in modo tale che i pazienti avessero un'educazione corretta sulle tematiche di cui stavamo parlando e potessero arrivare all'attenzione del medico correttamente educati e fare in modo che il medico svolgesse in maniera adeguata il proprio lavoro di terapeuta. E quindi di fatto l'eccellenza in questo senso risiede nella nostra capacità di assicurare la migliore qualità possibile di vita al paziente sofferente di questo tipo di patologie.